Ci troviamo nel pastificio di Vella in provincia di Bari, nello specifico rutiliano ed è il sito industriale e il polo industriale della F di Vella S.P.A. dove ci sono il pastificio di pasta secca, fresca, due molini, grano tenero e grano duro ed un biscottificio. La storia della famiglia di Vella e quindi dell'impresa di Vella comincia nel 1890, anno in cui il fondatore Francesco Di Vella e quindi il mio bisnonno ha fondato e ha posto la prima pietra di questa realtà aziendale. Mission per Di Vella significa ottenere la soddisfazione del consumatore finale che è il nostro target ed è il nostro obiettivo. Questo lo otteniamo grazie al prodotto di qualità, al prezzo giusto e a quello che noi diamo molta importanza, cioè la resa in cottura, quello che è fondamentale per i palati esigenti dei nostri consumatori. Un prodotto di qualità che oggi significa, per quanto riguarda la pasta, rappresentare il made in Italy per eccellenza all'estero. Il processo produttivo vede una prima accurata selezione delle materie prime all'interno dei molini. I molini hanno il compito di macinare il grano, ma non tutto il chicco, solo il cuore diventerà la pregiata semola per produrre pasta. A questo punto la semola si unisce col suo secondo e unico ingrediente, l'acqua, per dar vita quindi al formato di pasta attraverso il concetto di estrusione e trafilazione. L'aspetto più importante e fondamentale è l'essiccazione, quindi la permanenza all'interno di tunnel di essiccazione. Non sono dei forni di cottura, ma dei tunnel dove aria calda viene ventilata sulla pasta per ottenere quindi una disidratazione del prodotto. La fase successiva e ultima è il raffreddamento per poi essere confezionata all'interno delle confezioni a marchio di Vella, pronte per essere distribuite presso le nostre piattaforme commerciali. Prima di raggiungere le piattaforme commerciali come per esempio la Coop, nostro cliente da oltre decenni, ottimo rapporto con la stessa piattaforma, la nostra pasta ma anche tutti gli altri prodotti devono transitare dal laboratorio Qualità, dove avvengono i controlli, le analisi, tutti gli esami che il prodotto pasta necessita prima di raggiungere lo scaffale del punto vendita.